Una lista composta da 24 componenti, quindi tutta la lista completa, una lista composta da il mondo del lavoro nella sua completezza, in quanto abbiamo fatto particolarmente riferimento a questa cosa, quindi abbiamo imprenditori, imprenditori della canteristica come il sottoscritto, edili, libri professionisti, operai, insegnanti, operatrici e operatori sanitari, quindi abbiamo anche avuto la capacità e la disponibilità, per la quale ringrazio tutti i miei compagni di strada, per fare una lista che dia una chiara alternativa a questa città, una città che ha bisogno di un cambio di passo, ha bisogno proprio di portare le nuove stanze, quelle stanze anche di rottura, io ci tengo particolarmente a citare 3 o 4 argomenti, partendo anche dalle nostre iniziative contro l'omofobia, temi che altre liste fanno difficoltà o che hanno depennato dal proprio programma, quindi è un argomento che ci caratterizza pienamente, il candidato del centrodestra della Lega Nord con Vannacci e Salvini, questi tipi di argomenti gli cassa, gli salta più e pari. Altro argomento e altra iniziativa molto importante che abbiamo realizzato è sulla sanità, un tema caldissimo nella città, anche qui con grosse responsabilità della Regione Marche e quindi di quel candidato proprio imposto dalla Regione Marche, che infatti non voleva fare nemmeno il candidato. Quindi abbiamo poi, come detto, anche il tema del lavoro, il lavoro per noi è fondamentale, l'importanza del lavoro, di dare futuro anche ai nostri figli e anche la questione culturale, altra iniziativa che abbiamo avuto, sarà determinante per un cambiamento nella nostra città. A fianco a Stefano Marchegiani, che è il miglior candidato che questa città possa avere e che, diciamo, si candidano tutti a un governo in piena discontinuità rispetto al passato, al passato che ha visto anche molte problematiche di questa amministrazione che si è dimenticata dell'ospedale, che ha perso tante occasioni, possiamo cominciare dal biodigestione, il Santa Croce è dimenticato, siamo qui al porto, non possiamo non citare questa tremenda cicatrice del cappannone al porto di Fano o anche i lavori e la distruzione dell'anfiteatro Rastat. Non c'è stata una visione, noi vogliamo riportare una visione alta in questa città, sia culturale che per il lavoro, per il bene dei nostri figli e per il bene della città intera.